Simone? Sì? Senti, se uno in passato ha fatto delle cose brutte, sarebbe meglio dirselo? Sì? Certo, guarda, ci ho pensato tanto. Per esempio, io alla mia ex, la dentista, ho fatto una cosa tremenda. La tradivi? Peggio. La maltrattavi? Accertamento fiscale, 84 mila euro di sanzione. Ho cercato di chiudere un occhio, ma ho troppo senso del dovere, capisci? Quindi ti prego non farmi mai scegliere tra te e la legge. Tu hai qualche cadavere nascosto? Chi? Oh, io! No, figurati, cadaveri. Non sai mai dove metterli. Sai, dicono che c'è una cura per la nostra ferita. Dovremmo cercare di fare un bambino e cercare di essere i genitori migliori dei nostri. Un bambino? Sì, un bambino, presente, come gli adulti più piccoli. E funziona? Non lo so, me l'ha detto il tostapane.